Allora cani, oggi andiamo a incontrare la nave Titanic. Certo! Noi andremo a visitare New York per vederlo. Ok, andiamo a incontrare. Bene cani, noi saliamo a bordo sulla nave Titanic. Certamente. Benvenuti cani, salite a bordo. Grazie gentiluomo. Figurati cane Yosha, si parte. Benvenuti in questo nave. Faremo un viaggio incredibile insieme. Wow, eccezionale. Possiamo ordinare qualsiasi cosa che voglio mangiare. Certo, non vedo l'uno. Sediamoci. Offertate dei servizio. Ok. Benvenuti cani. Oggi ascolteremo My Heart Will Go On. Sealing Dione. Oh no. Oh no. Che cucole. Oh no. Non vedo la mia vita. Oh no. Oh no. So, il viaggio in nosi esporto. E non vedo la mia vita. E non vedo la mia vita. Every night in my dreams I see you. Oh no. Oh no, è arrivato l'iceberg Purtroppo si sta affondendo la nave Titanic Ti uccideranno Oh mamma mia Sono molto dispiaciuto per il nostro nave Titanic Già Fa niente cani Continueremo a visitare prossimi giorni Ok? Ok Aha Ciao 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 Ciao